Senatore Candiani, finalmente vediamo i senatori a vita in aula? Certo, c'era votare la fiducia al governo ieri e c'era votare oggi la decadenza di Berlusconi. Questo è stato uno dei temi che noi abbiamo anticipato nel tempo e che racconta molto dell'ipocrisia della politica. In questo caso i senatori a vita, nominati dal Presidente della Repubblica, non si comportano come dovrebbero fare venendo a portare la propria conoscenza nel rispettivo campo, ma vengono semplicemente quando qualcuno, ovviamente non facciamo fatica a immaginare chi in funzione del governo li chiama, e li fa entrare in scena. In questo caso sono comparsi oggi i senatori Rubbia, la senatrice Cattaneo e l'architetto Renzo Piano e il ministro Monti che ogni tanto viene e ogni tanto va. La cosa che è stata anche abbastanza incredibile è che ciascuno di questi senatori a vita ha trovato tra i senatori un proprio difensore, tutti tranne uno, Renzo Piano. Nessuno è intervenuto, nessuno l'ha difeso e si è visto Renzo Piano essere veramente imbarazzato. Forse sarebbe anche il caso che in questo momento si mettesse da parte, come gli altri. Senatori vuol dire essere responsabili davanti ai cittadini, coloro che in questo caso si ritengono nominati e quindi rispondono solo a chi li ha nominati, fanno parte di una funzione politica ottocentesca, molto lontana dalla realtà che invece ci vuole, presenti sul pezzo e sempre in attività, non solo quando chiama il padrone.